Mughini asfalta Mirko Brunetti al grande fratello, non ci casco. Durante la diretta del 19 febbraio 2024, Mirko è tornato in casa, dopo essere uscito non una, ma due volte da quella casa. Eh sì, perché dopo il rientro a tempo determinato a San Valentino, Mirko ha voluto fare chiarezza con la sua perla. Il ragazzo infatti era uscito senza salutarla, su indicazione degli autori, ma durante l'ultima puntata ha avuto l'opportunità di rivederla. Durante l'incontro, perla ha confessato che i suoi sentimenti per Mirko non sono mai svaniti, confermando così il loro amore reciproco. Tere fine a questi confronti forse con il lieto fine. Brunetti in lacrime confessa in diretta, con un legame così profondo non si può non dare un'altra possibilità. A un certo punto, mi sono sentito di lasciarmi andare e quando sono con perla il tempo si ferma, ha detto Mirko. C'è da dire che queste confessioni hanno portato a un momento molto intenso fatto di verità e concretezza nella loro relazione, o almeno è quello che i due dicono. E nonostante il pubblico sia diviso tra chi è stanco di questi continui confronti e chi, invece, segue con interesse la loro storia, la relazione non convince in studio. C'è poi da dire che la tensione tra Mirko e Signorini è stata palpabile, soprattutto quando Signorini ha criticato Mirko per la sua apparente indifferenza alle opinioni altrui. E Alfonso non è stato l'unico a criticare aspramente Mirko Brunetti. Questa dinamica ha sollevato dubbi e critiche anche da parte del giornalista Giampiero Mughini, che ha espresso perplessità riguardo la sincerità del loro sentimento, considerando le continue apparizioni di Mirko nel programma come un tentativo di mantenere l'attenzione mediatica su di sé. Dice Mughini, io avevo parlato con Mirko e sembrava che la storia fosse finita. Io ho emozioni contrastanti. Ora con te che guardi e non interroghi e tante persone che applaudono la cosa è singolare. Per quanto riguarda il privato uso cautela, conclude Mughini. Signorini ha poi consigliato ai due di vivere la loro relazione con calma fuori dal contesto televisivo, mentre Cesara Buonamici ha espresso il desiderio che i due tengano il pubblico aggiornato sullo sviluppo della loro storia. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nuovi video.